Volano paroloni fra Varsavia e Bruxelles. Dopo il recente battibecco tra la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, è stato proprio quest'ultimo a rincarare la dose in un'intervista concessa al Financial Times. Bruxelles ci sta puntando una pistola alla tempia, ha denunciato il Premier in riferimento alla minaccia, ventilata dall'esecutivo comunitario, di bloccare i fondi del Recovery Fund qualora Varsavia non si decida a riconoscere il primato del diritto europeo sulla Costituzione polacca. Ci difenderemo in ogni modo possibile, ha spiegato Morawiecki, puntando il dito contro quello che ritiene un diktat e un approccio discriminatorio da parte della Commissione. Se l'Unione Europea bloccherà i fondi, ha aggiunto il Premier polacco, si scatenerà la Terza Guerra Mondiale e noi useremo tutte le armi a nostra disposizione. Dalla Commissione hanno fatto sapere di non gradire la retorica bellica impiegata da Morawiecki. Anche il governo polacco ha provato a smorzare i toni spiegando che quella della Terza Guerra Mondiale era semplicemente un iperbole. Il tira in molla però continua e i 36 miliardi di euro del Recovery Fund destinati a Varsavia rimangono per il momento bloccati a Bruxelles.